Ciao, sono Giuseppe Corapi. Ciao, sono Samuela Filardo. E io sono Fabrizio e sto cercando di vendere casa da diversi mesi, ma senza risultati. Nonostante il prezzo dell'immobile sia in linea con le valutazioni degli agenti immobiliari di zona, non so proprio più cosa fare. Fabrizio, hai provato con l'homestaging? No, non ho mai sentito parlare. Di cosa si tratta? Homestaging significa curare il look della tua casa prima della messa in vedita, ma non preoccuparti, non è una ristrutturazione. Ma come? La mia casa va bene così com'è? In che senso curare il look? È come quando devi mettere in vendita la tua auto. Vai dal concessionario, lui prima di metterla sul mercato, la lucida, cambia le gomme, fai il tagliando, cambia i tappetini, la metti al meglio, insomma. Esattamente come per noi donne quando ci prepariamo per un incontro galante. Andiamo dal parrucchiere, curiamo il make-up. Del resto, la prima impressione è quella che conta. L'homestaging è una tecnica di vendita efficace per aumentare il valore percepito della tua casa. Sia attraverso le foto sui portali online che durante le visite. Dopo un attento studio, la tua casa viene allestita temporaneamente, valorizzata e resa attraente per il maggior numero di possibili acquirenti. Però l'homestaging è un servizio che fate solo voi? Come mai le altre agenzie non me l'hanno proposto? A questa domanda non so risponderti, ma ti prometto che insieme con l'homestaging riusciremo a ottenere la migliore proposta per la tua casa. Ok, ora ho capito i vantaggi del servizio. Ma quando iniziamo? Semplice, fissiamo subito un appuntamento per il sopralluogo. Non c'è mai una seconda occasione? Per fare una buona prima impressione. Grazie.